Buongiorno a tutti. Oggi parliamo di agenzie per il lavoro domestico, per le badanti. Voglio fare una previsione. Secondo me nel giro di dieci anni il lavoro domestico, il lavoro della badante, passerà tramite le agenzie. Perché? Perché per le famiglie è più comodo. Ma in questo momento è un problema. C'è una situazione difficile. Perché? Perché tra le agenzie oneste ci sono anche tantissime agenzie disoneste. Io sono convinto che le badanti per cercare lavoro devono comunque rivolgersi anche alle agenzie che occupano e coprono il territorio dove loro si trovano. Ma ci sono quattro punti fondamentali che una badante deve seguire per rivolgersi all'agenzia. Quali sono? Sono una badante? Mi voglio rivolgere a un'agenzia per il lavoro domestico che si occupa di badanti, di assistenza alle persone? Non c'è problema. Anzi, secondo me è la strada giusta. Io in un caso, come papà, ho avuto una badante che ho assunto direttamente. Ma quando ho avuto bisogno per mia mamma, avevo bisogno di una copertura di ore più bassa e quindi mi sono rivolto a un'agenzia. E mi sono trovato benissimo. È stata un'agenzia onesta che ha pagato i contributi perfettamente. Una badante che va da un'agenzia, la prima cosa che deve fare, si deve far dare una copia del contratto che l'agenzia gli propone. Se la badante ha delle difficoltà a comprendere questo contratto, non c'è nessun problema. Con una copia del contratto, tanto se è un contratto legale, che problema ha l'agenzia a darmene una copia? Vado da un atli, vado dai sindacati o da un commercialista di fiducia e mi faccio leggere il contratto, mi faccio spiegare cosa c'è scritto sopra. Quindi è importantissimo, badanti, non firmate nulla, non firmo in bianco nulla, ok? Ma soprattutto non do soldi a nessuno, quantomeno in contanti. Volete dei soldi? Può essere, vi faccio un bonifico, che così rimane segnato. Spesso le agenzie in questo momento hanno la forma giuridica delle cooperative. Ecco, in questo punto è importante far leggere il contratto di lavoro. Perché? Perché nel contratto di lavoro ci possono essere scritte dei punti importanti da sapere. Ad esempio, per entrare in questa cooperativa devo dare dei soldi? Sì. Pago una quota di iscrizione? Ok, postarci. ma quando mi licenzio, questi soldi mi vengono ridati indietro? Punto di domanda. La quota da pagare all'agenzia è mensile? Non lo so quanto sia giusto questo, ma soprattutto questa quota la paga la famiglia o la paga la badante col suo lavoro? Perché il contratto nazionale del lavoro domestico parla chiaro, ci sono dei minimi ritributivi e la badante, meno di questa cifra non può prendere. Lavoro tramite agenzia e non ho diritto al TFR alla tredicesima? No, 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 è sbagliato. Le badanti hanno sempre diritto al TFR alla tredicesima al riposo settimanale, a prescindere che sei assunto direttamente dalla famiglia o dall'agenzia. Dire che tutte le agenzie sono dei truffatori è sbagliatissimo. Perché guardate, io in prima persona ho avuto un rapporto con un'agenzia e mi sono trovato benissimo. E la badante che ha lavorato per la mia famiglia tramite agenzia è stata pagata regolarmente e senza nessun problema. Ma le famiglie devono stare attenti, perché se l'agenzia è un truffatore, anche voi rischiate una denuncia. Quindi famiglie, state attenti a che agenzie vi rivolgete. E badanti, prima di pagare, prima di sganciare il grano o di firmare qualcosa, attenzione, mi rivolgo ai sindacati o alle ACLI, o a un commercialista o a una persona esperta di fiducia, leggiamo il contratto, capiamo cosa c'è scritto sopra, poi se il contratto mi sta bene, firmo, pago se c'è da pagare qualche cosa e inizio a lavorare. Ricordiamoci che in Italia è illegale vendere il lavoro. È illegale. Non si può fare. E che il lavoro domestico ha dei diritti ben scritti. E se il lavoratore si rivolge ai sindacati e i suoi diritti sono stati violati, il lavoratore giustamente vince. Se avete visto il video che abbiamo fatto ieri e che abbiamo proposto nella nostra pagina e sul nostro sito internet, vi siete resi conto che bisogna stare attenti, perché ci sono anche delle agenzie che truffano. E non sono poche, e lo sappiamo. Ma quando si muove la Guardia di Finanza, quando si muove la CGL o qualunque altro sindacato, la giustizia viene fuori. Quindi il futuro è le agenzie. Il presente facciamo attenzione, ok? Seguiamo delle regole. Non firmo nulla, leggo con attenzione il contratto e prima di darti i soldi ci penso su 20 volte, non una volta. Non vado, do 100 euro a qualcuno e poi spero che questo mi trova un lavoro. Anche perché, parliamoci chiaro, il problema di un'agenzia non è trovare le badanti. Di badanti ce ne sono in abbondanza. Il problema dell'agenzia è trovare le famiglie che hanno bisogno di una badante. Quindi, se io sono un'agenzia e faccio un esempio, e metto un annuncio su internet, cerco badante per lavoro a Milano. Mi chiamano in 300. Ad ogni badante chiedo 100 euro per iscriversi per quel lavoro. Poi il lavoro lo prende uno solo. Non lo prendono tutti a 300? Eh, l'agenzia ha fatto i soldi così, eh? State attenti. State attenti sia le famiglie che le badanti, perché qua il rischio è una doppia truffa. Cerchiamo di rivolgerci a persone oneste, che procurano lavoro e si comportano correttamente. Evitiamo, segnaliamo alla Guardia di Finanze, alla CGL o a qualunque altro sindacato, agenzie che si comportano in modo scorretto. Ma soprattutto non diamo contanti in giro. Non firmiamo a caso. Facciamo attenzione quello che facciamo, ok? Speriamo di essere stati utili alle badanti e alle famiglie. Massimo, ilcercabadanti.it